Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, la grazia del Signore si rivela da noi in Gesù, Figlio di Dio, il quale è venuto nel mondo con la testimonianza del Padre. Questa testimonianza gli fu data dalle opere che lui compieva innanzitutto dalla sua vita. Lui poteva dire, chi di voi può accusarmi di peccato? Chi di voi può accusarmi di falsità? E tutte le sue parole e le sue opere erano illuminate, tanto che lui un giorno nel tempio poteva dire alle folle che lo seguivano, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Oggi, cari fratelli, l'umanità si chiede qual è la luce. Un giorno un ragazzo mi chiese, chi ha deciso che noi dobbiamo fare il bene? Noi abbiamo scelto di fare il male. Chi è che comanda? Chi è che decide? Qual è la strada da seguire? Tanto che la società di oggi è arrivata per assurdo anche a negare che esista la verità. La verità non esiste una cosa che sta in piedi da solo, esistono le cose vere e le cose false. E come facciamo noi a comprendere qual è la verità da seguire e qual è la menzogna da evitare? Nella cultura greca a un certo punto si arrivò a una filosofia che negava anche l'evidenza attraverso degli ingani letterari, tanto che grandi filosofi ebbero l'intelligenza di scoprire le regole del pensiero per dire quando un pensiero è corretto e quando un pensiero non è corretto, ma quando l'anima dell'uomo è autentica, sincera, ricerca la verità e la verità la sazia quando l'anima è perversa. Guardate per esempio nel processo di accuse contro Gesù, i suoi accusatori mentivano e come si può dire questo è vero, questo è falso? È un problema che la società di oggi ci sta attraversando. Chiediamo al Signore di illuminarci. Manda il tuo Spirito, Signore, e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a illuminare l'umanità, a guarire i cuori, a dissipare le tenebre dell'errore e dell'inganno di Satana. Manda il tuo Spirito, Signore, a fare tutte le cose nuove, perché possiamo aprire il cuore a Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore, che è la verità che si è fatta carne, che è la potenza di Dio che è venuta a diborare in mezzo a noi e la sua misericordia, che è venuta a risollevare chi è caduto, a liberare chi è accusato. A Gesù si è la lode e la gloria in eterno. Amen. Ieri, fratelli, nella proclamazione del Vangelo abbiamo ascoltato l'episodio dell'adultera che era stata colta in fragrante adulterio e troviamo Gesù che di fronte al suo caso non dice che lei non ha peccato e non dice giustifichiamo l'adulterio come ai nostri giorni. Ai nostri giorni l'adulterio viene preso come un gioco, come uno spasso, ma vediamo la solitudine in cui poi si cade. Distruggendo l'amore si vede tutto il male e poi penetra nel cuore della creatura umana perché è fatta per vivere in comunione di amore. Allora Gesù non prende le difese del peccato, condanna il peccato e dice alla donna non peccare più, ma prende le difese della donna perché sia rigenerata, sia riscattata, sia salvata e possa tornare a vivere dai figli di Dio. Ecco la verità che si affaccia. Sono tre i nemici dell'uomo. Primo, la corruzione del peccato. Secondo, la presenza di Satana dello spirito del male che tende alla distruzione, all'odio, alla nemicizia, alla negazione dell'amore. Terzo, la morte. E Gesù si presenta esattamente come colui che viene a liberare l'uomo dal peccato usando misericordia e rivela che Dio è misericordia, che Dio è amore che perdona, non solo, ma che comprende. Dio ti avvolge di comprensione. Hai peccato nella vita? Hai commesso degli errori, anche seri? Dio non si manifesta come il Dio della giustizia spiegata che viene a condannare la persona, ma viene a liberare la persona da ciò che l'ha dominata, cioè dal peccato, per dargli pace e serenità, per dargli vita. E questa verità quando si manifesta in pienezza, quando l'uomo è in grado di essere se stesso, cioè di saper dare la propria vita per amore. Dio è amore e rinnova l'uomo nell'amore. Allora Gesù dice a quella donna va e non pecare più. Gesù quindi viene a liberare l'uomo dalla colpa, rinnovando l'uomo nella sincerità del cuore. Vi darò un cuore nuovo, dice il Signore, per bocca di alcuni profeti, in modo particolare Geremia. Il profeta Ezechiele parlano di un cuore nuovo, di una vita nuova. Vi prenderò da reggenti, vi redonerò da tutti i poveri in mezzo a cui vi ho dispersi, dice. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di nuovo uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e rivevrete. Ecco dove Gesù arriva, fratelli, nel salvare l'uomo, cambiando lo spirito intimo dell'uomo e rinnovandolo. E come facciamo noi a comprendere che quello è lo spirito vero? Ti dà amore, gioia, pace, ti dà vita, ti dà serenità, ti dà potenza d'amore, anche di fronte ai pericoli. Dio ti dà potenza, ti dà ricchezza di amore, di santità. E Gesù caccia via Satana da coloro che sono legati. Allontana da loro lo spirito del male, per cui quando si sentono liberati, si sciolgono anche da malattie, come è successa a una donna qualche giorno fa, che appunto, aprendo il cuore a Gesù Cristo, ha visto anche le sue sofferenze, i dolori che la si lavano a scomparire e il sorriso è sorta sulla sua bocca, sulle sue labbra, perché è uscito da lei qualcosa che la teneva legata. Gesù è colui che è libero dalle potenze del male, è colui che ridà la vita, risuscita i morti, non solo, ma mette davanti a tutti noi come conclusione della nostra vita, non la morte, non la fine, mette davanti a noi la vita eterna, la gloria eterna, per cui si va verso l'eternità, non col terrore, ma con la speranza. Santa Teresina del bambino Gesù, quando si accorse di essere emotisa, lodò il Signore e non vuole neanche accendere il lume per vedere se veramente fosse malato o meno, ma si era alle grope che era chiamata dal Padre ad andare nella sua gloria. Gesù libero dalla morte, guarendo tanti malati in pericolo di morte, ma prospettando davanti ad ogni uomo l'eternità. E perciò dice, la mia testimonianza è vera, il Padre mio dà testimonianza, perché le opere che io compio stanno a dimostrare da chi vengo, la sua vita santa testimonia la sua autenticità, ma l'uomo, fratelli, ai nostri giorni ha perso il senso dell'autenticità, ha perso il senso della verità. E oggi ci si pone questa domanda, qual è la verità? Apriamo oggi il cuore a Gesù Cristo, fratelli. Apriamo di mente il cuore, perché per decidere bisogna che il cuore sia sincero. Il Signore Gesù, tu sei venuto a dare luce a questa umanità, che è davanti a sé, ha tanti pericoli. Si parla sempre e più spesso di morte. Tu sei venuto a dare la luce della vita, sei venuto a liberare l'uomo dalla morte, dal potere di Satana, dal potere del maligno, che è venuto a liberare l'uomo dal peccato, per farlo rinascere a vita nuova. Signore Gesù, dono a tutti noi oggi la grazia di saper riconoscere Te come il vero Signore, il vero Salvatore, acquisare ogni lode, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la Tua vita illumina anche i non credenti. Chi si rivolge a Te con amore filiale, scopre la grandezza della misericordia di Dio che ha fatto di Te la creatura nuova e il Signore propone Te come modello di ogni creatura su questa terra. Donaci di saper comprendere attraverso la luce che promane dai Tuoi occhi e dal Tuo cuore, chi è il vero Salvatore, chi è Gesù, figlio di Dio che è venuto a salvarci e a liberarci. A Lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il cuore di ogni uomo si rivolga a Lui, si lascia toccare da Lui, si abbandona in Lui perché tutti siano liberati, salvati, illuminati, redenti. A Dio sia la gloria per i secoli eterni. Amen. Grazie.